Una sanità territoriale più capillare e vicino ai cittadini, l'istituzione dello psicologo di base e ancora il personale, in particolare medico, da incentivare soprattutto nelle zone più svantaggiate e periferiche. A cinque anni dall'ultima legge di riforma del sistema, la sanità toscana riparte e si riorganizza su queste priorità, definite dal percorso partecipato degli Stati Generali della Salute, che ha coinvolto dal 13 maggio al 7 ottobre 2021 1.300 soggetti, tra cittadini, associazioni, terzo settore, enti locali e professionisti. Sono 200 le adizioni alla Commissione Sanità del Consiglio e 184 i contributi ricevuti. Tutto questo è dentro una proposta di risoluzione del Consiglio regionale, che impegna la Giunta ad attivarsi con azioni concrete. La fine di questo processo è stato un momento di confronto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Cinema e alla Compagnia di Firenze, che insieme al Presidente Eugenio Gianni, gli Assessori alla Sanità, Simone Bezzini e alle politiche sociali Serena Spinelli e al Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, hanno delineato la sanità del futuro. Tutte queste proposte verranno votate nella risoluzione, dovranno diventare leggi, manovre della Giunta, iniziative con sempre la grande attenzione verso il cittadino. Avere oggi qui il Ministro Speranza è qualcosa di veramente importante perché significa condividere questo pezzo di strada con il Governo. Io sono orgoglioso della nostra sanità, della sanità toscana, un modello per tante altre regioni. Oggi essere qui vuol dire vogliamo migliorarci. Tema cruciale sono le risorse, soprattutto quelle del Fondo Sanitario Nazionale. E forte è la richiesta del Presidente Gianni per un suo incremento, partendo da un bilancio 2021 della sanità toscana con i conti in ordine. Ci si renda conto che la percentuale di risorse del bilancio dello Stato da destinare alla sanità e alla salute pubblica deve essere più ampio. Su questo il Ministro, a mio giudizio, e noi lo sosterremo, deve fare una sorta di battaglia anche a livello nazionale. E per il futuro il lavoro più importante sul territorio, sempre nell'ottica della Toscana diffusa. Dobbiamo avere anche dei presidi, quelle che finora abbiamo chiamato le case della salute, che con gli ambulatori, la medicina generale, la diagnostica, possono dare risposte che in qualche modo tamponano la corsa che altrimenti quando uno ha la febbre a 39 lo porta subito direttamente a pronto soccorso. Noi sotto questo aspetto abbiamo le risorse del PNNR e sotto questo aspetto in 77 case della salute interverremo o per ristrutturare, risistemare, allargare quelle esistenti o per farne delle nuove. E alcune indicazioni arrivano dal Ministro Speranza. Noi dobbiamo sostenere lo sforzo della Regione Toscana e lo stiamo facendo. Facevo due conti, Eugenio, noi mettiamo in Toscana 450 milioni per il PNRR, ora abbiamo investito 210 milioni sull'articolo 20 per l'edilizia sanitaria e poi c'è questo progetto che a me sta particolarmente a cuore di 430 milioni dell'hub antipandemico di Siena, che è un'altra cosa, di 340 milioni, 340 milioni dell'hub antipandemico di Siena, se si fanno i conti è un miliardo.